Senta, ieri è stata una giornata importante perché la Juventus ha spiegato esattamente quali sono i passi che farà da qui in avanti per il solito problema, quello degli Scudetti del 2005 e del 2006. Quanto ottimismo c'è di portare a casa il risultato se vogliamo parlare in termini sportivi? Io direi che la Juventus è stata molto coerente come sempre nel chiedere una parità di trattamento, non entrare nel merito delle decisioni ma chiedere che questo sia applicato a tutti. Noto disagio consigli da parte di altri e questo fa supporre che qualcosa da nascondere c'è. A proposito, l'ultima cosa, visto che Moratti ha invitato il Presidente Agnelli ad andare in ferie, che tipo di commento può fare a questa affermazione il Presidente dell'Into? Siamo contenti di questi consigli da una persona di una certa età che sicuramente con la sua saggezza vuole invitare ad andare in vacanza. Allo stesso tempo sappiamo che uno deve lavorare e che c'è tantissimo da fare e quest'anno quella diventerà priorità. Grazie, a John Elkan.